Lavorare tranquillamente per onorare un mandato conferito dai consorziati è quanto si aspetta Davide Gravina, reggente del consorzio di bonifica integrale dei bacini del Tirreno Cosentino. Di recente si è riunita la deputazione del consorzio Vallelao e l'assemblea è stata utile per diversi aspetti, in particolare perché ha permesso di analizzare le memorie difensive del procedimento amministrativo che coinvolge il palazzo. La Regione Calabria ha mosso diverse contestazioni alla struttura di Scalea. La prima, per fare chiarezza sulla vicenda, riguarda le elezioni della terza fascia. Rispetto a queste elezioni della terza fascia tenute il 27 settembre 2015, per la seconda volta la struttura di controllo ha nelle sue interpretazioni ritenuto nulle queste elezioni. Noi abbiamo più volte scritto che le valutazioni fatteci pervenire dalla struttura di controllo non avevano fondamento. A questo abbiamo allegato un parere dell'Associazione Nazionale dei consorzi di bonifica Lampi che dà ambia ragione al consorzio Vallelao. Rispetto a questo non si è mosso nulla, non sono stati rimosse i decreti di annullamento e quindi abbiamo dovuto necessariamente ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria. Il giorno 15 di gennaio ci sarà la sentenza per capire se la legge è stata interpretata bene noi o invece la struttura di controllo. Ma dagli elementi che abbiamo ovviamente viviamo questa giornata nella massima tranquillità e serenità perché è fondato il nostro ragionamento sulla questione delle elezioni della terza fascia. La seconda procedura aperta con la Regione Calabria è nei confronti del Dipartimento dell'Agricoltura perché ci sono state fatte otto contestazioni e rispetto a queste contestazioni minacciano il commissariamento del consorzio. Noi su ogni contestazione puntualmente abbiamo dimostrato che assolutamente da parte della Regione non era stato sviluppato nessun tipo di procedimento serio sui singoli casi sollevati. Abbiamo addirittura le loro approvazioni sulle azioni svolte da noi o comunque la rimozione di atti che a loro modo di vedere non erano conformi alle interpretazioni loro dello Statuto e del Regolamento che disciplinano gli atti dei consorzi calabresi e quindi anche su questo abbiamo presentato delle memorie difensive e noi riteniamo che subito dopo la sentenza del Tar anche questa seconda procedura possa rientrare nei canoni del vivere civile, della collaborazione istituzionale. Grazie a tutti.